Vincenzo, il nostro amico inglese Steven e il nostro altro amico romano anche lui, Omero. Non viene dal passato, è Omero proprio, aspetta, le posso chiedere nome e cognome? Io sono Oscar Damiani, grazie mille, grazie davvero, complimenti, ci faccio vedere da qualche parte, spero che me lo voglieranno, vediamo, ora andiamo verso this way. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.